Allora ragazzi, io devo sfidare il mio cantante Matteo, non potevo farlo da solo, c'ha una voce quello lì ragazzi, e allora lo faccio con mio fratello qua. Allora, vedi qui al circo, manca una cosa, grazie maestro, grazie, grazie, ammazza che voce, ma quando me ne dai un po', dicevo io signori che stasera il cappello non mi ci sta perché le ho fatti troppo dritti, Meno male che ci sono almeno quelli dritti, adesso è un periodo un po' strano, arrivo a casa, faccio il giro del tavolino, devo ripartire un'altra volta, signora non faccio più niente, lei fa qualcosa con quello lì? Ma no, non ci credo, allora andiamo maestro, io l'unica raccomandazione che faccio Matteo di rimanere in mezzo alla pista perché se vai in mezzo alla gente non ti si vede più, ok? Stai qui. Mi si sente, è importante, è là, dove metto? Chi me vuole? Me metto qua, vai. Grada da per voi! Ma no, non ci credo, è la mia cosa, grazie, ammazza che faccio che faccio, grazie, ammazzza che faccio, grazie, ammazzza che faccio, grazie a tutti, Tocca a me! È là! Granata, ti è la sognata per me, oh se scivola, ah grazie, mi cantare se vuoi che gitana, ho am despertissi, è là! Mi cantare, è la fantasia, mi cantare la maldita melancolia, che ne io te metto qua, adoro! Sei! 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 Lewis! Hein? Occio eh, oh occhio Silvano eh, da lì eh, occio eh, guarda la mia orchestra eh, come sono attenti eh, sono un po' stanchi eh, ma sono sempre svegli eh, guarda eh. Dove è andato? Ma dove è andato? Alla fiera. Mamma mia. Eh, granada, marola, cantata, en coplas preziosas. Eh, no tengo otra cosa che darte che è un ramo di rosas, di rosas di suave fragranzia che le diera Marco al Berger Morella. Eh, aspetta che, la sedia, la sedia sì, fammi alzare che mi vedono, aspetta. Ah, tanta zitta. Matteo, Matteo, sei ancora basso. Vai, vai. No, non mi casca la sedia. Ah, granada. Tutti ero e sta ilien in desuare che sangri desuare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.